Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale A Fanno cadono calcinacci dal sottopasso in località Chiaruccio alla segnalazione di un nostro reporter di strada Porta a porta in zona mare, ecco isole con il pass e nuovi orari nei quartieri di Pesaro Ecco le modifiche alla differenziata proposte da Marche Multiservizi Natalità ancora in calo a Fanno, solo 350 le nuove iscrizioni per le scuole materne della città Ecco potenza inaudita, il carro di Angherà che sfilerà nel corso mascherato di Fanno Domenica diretta da Viale Gramsci su Fanno TV e la sera il processo al carnevale Con ospiti in studio il concorso per la foto più bella Buonasera e benvenuti sul canale 17 di Fanno TV per l'informazione locale E' stato rintracciato all'autore dell'atto vandalico compiuto ai danni di un angioletto Che durante le festività natalizie a Urbino era stato posizionato in piazza della Repubblica Si tratta di un 25enne studente universitario originario del Friuli Che è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza Dalle immagini si nota il ragazzo che presa l'aria in corsa Ha sferrato un calcio alla struttura per poi afferrare la parte sommitale dell'angelo per rubarla Il danno ammonta a diverse centinaia di euro Di fondamentale importanza è stata anche l'arguzia dimostrata da un poliziotto Che durante un servizio di volante nel centro storico Ha ricordato alcune caratteristiche dell'autore del gesto vandalico E percorrendo una via del centro abitato di Urbino lo ha riconosciuto Il ragazzo è stato rintracciato in casa dove conservava l'angioletto posizionato nella camera da letto Al 25enne è stato contestato il reato di furto aggravato per aver commesso violenza sulle cose E un altro furto è stato messo a segno ai danni della piadineria Il chiosco situata in piazzale Cinelli a Pizzaro I ladri che sono tornati in azione per la seconda volta nel giro di un anno Se ne sono andati via pure a stomaco pieno Ascoltate Il secondo furto che subiamo in 12 mesi Quasi due anni di gestione Il secondo furto Questa mattina quando abbiamo aperto il chiosco alle 6 e mezza per le colazioni Abbiamo trovato la serratura rotta e molti danni Sì, non è stato un furto mordi e fuggi Ma sono fermati a fare colazione, a fare una merendina Abbiamo trovato mozzarella aperte, piadine, snack, di tutto Quindi hanno avuto modo, oltre che di rubare con calma, anche di fare una piccola sosta Sì, hanno forzato la serratura laterale Una pista ciclabile che però rimane completamente buia la sera Quindi hanno avuto vita facile In base alla sicurezza, la problematica del nostro paese la conosciamo tutti Tra le varie attività che ho, questa è esattamente di fronte all'ospedale e di fianco alla caserma Quindi si può pensare che sia uno dei posti più tranquilli della città Invece non è così C'è un bivacco continuo durante tutto il giorno e nessuno interviene ormai da anni Sono intervenuti i carabinieri questa mattina, un'oretta dopo averli chiamati I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Falconara Marittima In collaborazione con funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli Hanno individuato un corriere di tabacchi e lavorati esteri in contrabbando all'aeroporto delle Marche Dentro una valigia c'erano 1400 pacchetti pari a 28 kg di marca NZ Gold di qualità non elevata Il carico era nella stiva di un aereo proveniente da Monaco di Baviera Il passeggero, un ucraino di 26 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona Per il reato di contrabbando punibile con la reclusione da 2 a 5 anni E con la multa di 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto introdotto nel territorio dello Stato In questo caso pari a 140.000 euro Ed ora diamo spazio alle vostre segnalazioni e andiamo a Bellocchi di Fano Dove dal sottopasso che conduce al Fano Center cadono i calcinacci sulla sede stradale Tutti particolari nel servizio di Lino Balestra Calcinacci caduti dal tetto di un sottopasso sulla sede stradale Che hanno solo per pochi metri evitato di danneggiare le auto in transito È accaduto nel sottopasso carrabile in strada comunale Tomba Crinaccio Che porta al parcheggio del centro commerciale del Fano Center in località Chiaruccia Un sottopassaggio frequentatissimo nelle ore di punta Che viene utilizzato da automobili e furgoni ogni giorno Anche perché consente di effettuare una sorta di scorciatoia Per chi deve recarsi al centro commerciale Anche a ora di pranzo È frequentato quindi da centinaia e centinaia di veicoli giornalmente Ed è stato proprio un utente della strada Che lo utilizza giornalmente a segnalarci la caduta dei calcinacci Non sono di grosse dimensioni Certo da rappresentare un pericolo reale per le vetture in transito Ma pensiamo ai danni che potrebbe fare colpendo il parablezza di un'auto in movimento Creerebbe certamente una crepa Che costringerebbe il proprietario dell'automobile alla sostituzione Con un esborso di diverse centinaia di euro Oppure ad uno scooterista che potrebbe essere colto di sorpresa e cadere Insomma tutte cose che è meglio evitare I calcinaggi provengono dalla giunzione delle due parti del sottopasso Dove le infiltrazioni d'acqua hanno lavorato sui tondini in ferro Che arrugginendosi hanno spaccato man mano il calcestruzzo E che continueranno inesorabilmente a farlo nella giunzione Che si trova proprio al centro della carreggiata Certamente la staticità della struttura non è compromessa per così poco Ma è lo stato di degrado in generale del manufatto che preoccupa E che non si presenta nelle migliori condizioni alla vista Sia nel tunnel che nelle entrate Dove i calcinacci anche se solo di pochi centimetri Potrebbero diventare le prossime volte di dimensioni diversamente più grandi Ultimo ma non ultimo aspetto La vegetazione da tempo lasciata a se stessa Che ovviamente fa il suo corso Impossessandosi centimetro dopo centimetro di parti della struttura Come sul lato del parcheggio dove gli arbusti Hanno anche sradicato parte della rete di recinzione di protezione Per la superstrada Ed è un sostegno in ferro che è pericolosamente penzolante Come una spada di damo sull'ingresso del sottopasso Una folata di vento bella tesa Come quelle dei giorni scorsi E la pesante struttura in ferro potrebbe venire giù Speriamo non al passaggio di nessun utente E di nessun automobilista I vigili del fuoco di Pesero E i tecnici della provincia Sono intervenuti oggi pomeriggio Lungo la strada provinciale 29 Che da Cagli porta a Pianello di Cagli A causa di una pianta pericolante Che rischiava di cadere su una casa Per la strada per tutto il tempo delle operazioni di rimozione È rimasta chiusa al traffico Adesso cambiamo argomento Perché sono state chiuse a fine dicembre scorso Le iscrizioni nelle scuole materne del comune di Fano Anche quest'anno però si registra un forte calo della natalità I numeri dei bambini di età compresa Dai 3 ai 6 anni Iscrivibili nelle scuole per l'infanzia del comune di Fano Per l'anno scolastico 2020-2021 Parlano di un inesorabile andamento di denatalità Per il comune fanese Che si conferma ormai da diversi anni Gli iscrivibili nel 2019 erano 438 Contro i 401 del 2020 80 nati in meno Con un calo demografico intorno al 18% Per questi 400 bambini È stata fatta richiesta di iscrizione Per soli 350 180 in strutture comunali E 162 nelle scuole statali Confrontando sempre il 2019 con il 2020 Si mette in evidenza un'altra inversione di tendenza Ovvero sempre più genitori preferiscono Per vari motivi e necessità Le strutture comunali rispetto a quelle statali Nel 2019 le richieste di iscrizione Nelle 7 strutture comunali Sono state 173 Mentre per le 13 strutture statali 244 Per il 2020 invece Si è passati da 188 per le comunali E 162 per le statali In soldoni si registra quindi Un più 10% di iscrizioni per le comunali E un calo invece per quelle statali Di circa il 35% Per quanto riguarda i costi della rifezione scolastica Per la quota a carico delle famiglie Nessuna variazione Tariffe ferme da più di due anni La rifezione scolastica Fiore all'occhiello del comune di Fano Che continua a inanellare riconoscimenti A livello nazionale Si aggira sui 1900 pasti giornalieri Assicurando così alle casse comunali Circa 30.000 euro annui Mentre le famiglie che sono a contributo Zero sono circa 200 Ma anche su questo in prospettiva L'amministrazione sta lavorando E si valuterà una proposta dell'assessorato Per agire anche sull'indice ISEE E le fasce di riferimento Abbassando così la quota Di contribuzione per bambino Ad un numero sempre maggiore Di famiglie fanesi Che usufruiscono della rifezione scolastica Per un monitoraggio trasparente Della disponibilità di posti Per esami, visite e accertamenti medici Si può ora consultare il sito della Regione Marche Ogni giorno dalle 8 si può accedere a un banner In cui è possibile visionare la disponibilità Delle prestazioni sanitarie, priorità e aria vasta Lo ha annunciato il Presidente della Regione Luca Ceriscioli Che ha fatto il punto sulle liste d'attesa Insieme al Presidente della Commissione Sanità Fabrizio Volpini Le liste d'attesa ha affermato Continuano ad avere un andamento eccellente Oltre 58 mila prestazioni in più nel 2019 E rispetto anche dei termini Sempre sopra il 96% Altra questione ha osservato E quella dei tempi per riuscire a prenotare La Regione, ha riferito il Presidente Sta cercando di porre le condizioni Per allargare il servizio di prenotazione Dalle attuali 18 farmacie che lo forniscono Ad altre centinaia Anche se sarà difficile farlo gratis E in occasione della 28esima giornata mondiale del malato Il Vescovo di Fano Fossumbrone Caglipergola Armando Trasarti farà visita agli ospedali della Diocesi Partiamo da lunedì 10, martedì 11 febbraio Dalle 8 alle ore 12 Quando il Vescovo visiterà i degenti Dell'ospedale Santa Croce di Fano Alle ore 16 nella Basilica di San Paterniano Presiderà la celebrazione eucaristica Con unzione degli infermi Mercoledì 12 febbraio alle ore 16 Nell'ospedale Santi Donnino e Carlo di Pergola Siterrà la celebrazione eucaristica E visita ai degenti Venerdì 14 poi alle ore 16 e 15 Sarà all'ospedale civile di Fossumbrone Celebrazione eucaristica E visita ai degenti Lunedì 17 febbraio alle ore 16 Trasarti sarà all'ospedale Angelo Celli di Cagli Sempre per la celebrazione eucaristica Anche in questo caso visita ai degenti Modifiche in vista per la raccolta differenziata di Pesaro Dove Marche Multiservizi ha proposto Nuovi orari, eco-isole in zona mare E una trasformazione del sistema porta a porta Allora vediamo che cosa cambia E anche che cosa ne pensano i pesaresi Nel prossimo servizio di Francesco Salvago Il report 2018-2019 di Marche Multiservizi Evidenzia la mancata o corretta differenziazione Dei rifiuti in zona mare In centro storico a Pesaro Partendo da una serie di criticità Monitorate dall'azienda pubblica Il piano di quest'anno della municipalizzata Prevede un progetto per la trasformazione Del sistema porta a porta integrale A partire dalla zona mare Secondo Multiservizi Le criticità riscontrate Hanno interessato la quantità di rifiuto prodotto Delle attività di ristorazione La gestione di rifiuti ingombranti Il loro recupero è una raccolta non corretta Soprattutto nel quartiere centro mare Il monitoraggio è evidenziato nel quartiere interessato 665 utenze non domestiche Che smaltiscono rifiuti prodotti Delle attività di pubblico esercizio Ad incidere maggiormente sul sistema della raccolta Il neopresidente delle noci Prevede la necessità di implementare il monitoraggio Con relativi controlli E avviare per la prossima stagione estiva Campagne di sensibilizzazione e informazione Dedicata ai gestori delle attività stagionali Il progetto prevede l'installazione di eco-isole Da posizionare in alcune zone Oltre a soluzioni con schermatura Per cassonetti al fine di ridurre l'impatto visivo Verranno introdotte due isole ecologiche Per le utenze domestiche Invece 10 schermature per i cassonetti Dell'indifferenziata accessibili attraverso l'utilizzo di apposito pass Non mi piacciono molto Nei rifiuti per strada Lasciati in queste ore impensate Non mi piacciono molto Manco i cassonetti Come sono la disposizione Da un punto di vista esteriore Di decoro della città Ma credo che come raccolta funzioni Nel senso di percentuali siamo abbastanza in alto Mi piacerebbe che fosse più decorosa all'interno della città Secondo voi funziona qui a Pesaro? Io sono di Milano e funziona La facciamo da tantissimi anni Sì 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 Ho visto qui Sì io ho sempre fatta da 40 anni che faccio Sempre fatta quindi Però vedo che è vicino a casa mia Insomma c'è È impegnativo Cioè è impegnativo perché deve avere tutto Deve avere più cose Però Noi la facciamo da tantissimi anni Ormai siamo abituati Andiamo con la testa Qui ci vuole il vetro Qui questo Quello C'è no Tutto procede bene Almeno dalle nostre Ma forse in centro non lo so Talvolta si vede un po' di deposito selvaggio Più che negli altri quartieri Però in complesso va abbastanza bene Credo Per i residenti del centro storico e zone periferiche Il piano della multi utility pone l'ipotesi di integrare La raccolta di rifiuti urbani Con la modifica degli orari Dalle 23 alle 5 O dalle 9 alle 13 Secondo il tipo di rifiuti L'azienda prevede la consegna alle famiglie Di un vero e proprio kit di contenitori Chiusi sia per il generico Che per l'indifferenziata Dotati di codice identificativo del rifiuto raccolto E si conclude oggi il nostro viaggio alla scoperta dei giganti di cartapesta Che sfileranno le prossime tre domeniche al carnevale di Fano Questa sera vi mostriamo Potenza inaudita Il carro realizzato da Matteo Angherà Allora vediamo il servizio del nostro inviato alla fabbrica del carnevale Filippo Pucci La nascita, la bellezza, la potenza e la distruzione della natura Viene rappresentata in un unico carro Attraverso l'idea di Matteo Angherà Dell'associazione Carnival Factory Che per questa edizione Ha voluto raccontare la tempesta che ha colpito lo scorso anno Le montagne del nord come le Dolomiti E le località vicine Sradicando milioni e milioni di alberi Con il titolo Potenza inaudita Il carrista vuole mettere in guardia il futuro delle nostre vite E mettere in chiaro il concetto che la natura incanta con le sue meraviglie Ma che è anche capace di togliere tutto Forse questo per mandare un segnale Quel segnale che il clima sta cambiando Nel mio carro cerco di rappresentare questo evento Con un bosco che cadrà sotto la forza del vento Quindi ci sarà un grande eolo che soffia E farà cascare tutti questi alberi Che però poi ricresceranno e ritorneranno su Quindi c'è anche una nota positiva Non soltanto negativa Nella relazione del carro parli di una stella alpina Che significato ha? Sì, la stella alpina è il fiore protetto e raro Che troviamo sulle nostre alpi Verrà rappresentata lungo la mascherata Che ci sarà davanti al carro Dove in mezzo a questa stella alpina Ci sarà una ragazza che suona il violino Perché queste sono anche le foreste dei violini Dello Stradivari Dove il legno veniva usato per fare lo Stradivari E quindi attraverso la musica e l'arte Ricrescerà lo spirito del bosco Ed è stato presentato oggi pomeriggio Il libro intitolato Carnevale a Fano Il più dolce d'Italia dal 1347 Un libro scritto a quattro mani Da Silvano Clappis e Raffaella Manna Questa sera presentate alla cittadinanza A tutti quanti Un libro importante per Fano Un libro che parla di 150 anni di storia del Carnevale Sappiamo bene che la nostra manifestazione Ha origini antichissime Proviene ovviamente dal basso medioevo se vogliamo E si è protratta nel tempo fino ad oggi Quindi una manifestazione importantissima Che i fanesi hanno proprio nel DNA E che noi abbiamo raccontato ovviamente All'interno di un libro che mancava per la nostra città Questo libro così incentrato sulla manifestazione Dove si colloca? Guarda, pensavamo soprattutto che dovesse promuovere Una delle manifestazioni, ripeto, più antiche Della città di Fano Il libro ricade all'interno della collana Una collana che prevede anche dei numeri speciali Oltre a quelli che abbiamo già dedicato ai maestri carristi in passato Ci sono foto, racconti, anedoti C'è qualche passaggio carino da raccontare? C'è di tutto all'interno E soprattutto abbiamo dato molto spazio alle fotografie Fotografie che comunque riprendono, se vogliamo Degli spaccati dei carnevali degli ultimi anni Perché ci sembrava giusto dare voce forse alle ultime manifestazioni Però all'interno troverete sicuramente anche dei documenti antichi E foto che ripercorrono un po' la storia di tutta la manifestazione Ecco, questo può essere un bello strumento Anche per far conoscere a chi non è di Fano Chi vuole parlare del nostro carnevale A chi non lo conosce Sicuramente È un libro che mancava Sicuramente l'ente carnevalesca lo utilizzerà per promuovere la manifestazione Anche in tantissime altre occasioni Anche fuori ovviamente della nostra nazione Mancava una storia sicuramente che andasse a ripercorrere Tutto il percorso del carnevale di Fano Insomma può essere un bel omaggio, un bel regalo Speriamo Domenica pomeriggio dalle ore 15 Fano TV trasmetterà in diretta il carnevale di Fano Invece la sera dalle ore 21 ci sarà la prima puntata del processo al carnevale Il programma in diretta sempre sul canale 17 del digitale terrestre Che tratta dello svolgimento della manifestazione con ospiti in studio Novità di questa edizione è il concorso a premi sui migliori scatti Attraverso l'applicazione Instagram Chi pubblicherà la foto più bella della domenica utilizzando l'hashtag Carnevale TV sarà sorteggiato e premiato Lunedì sera invece l'ospite dell'altro programma di Fano TV Primo cittadino sarà il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri Potrete intervenire in diretta telefonandolo 0721 86 14 33 Oppure ci potete mandare un messaggio Un breve messaggio di testo al 338 49 68 250 Numero di telefono che è lo stesso delle vostre segnalazioni Sempre molto importanti per la nostra redazione Eccolo qua Fra poco andrà in onda invece una nuova puntata Di Guarda chi c'è l'informazione torna domani mattina alle 7 Con occhio ai giornali Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata